ciao a tutti ragazzi prima di tutto volevo presentare questa maraviglia qua d'italia della come voi potete vedere che da ormai da due anni che ce l'ho che è molto comoda batteria che sono una cosa maravigliosa raga raga questa marca qua non è fare pubblicità ma è solo una migliore questa da due tre anni che ce l'ho è un spettacolo